Pesaro, ultimissima finale di questa edizione 2022 della Coppa del Mondo, facciamo un piccolo riassunto Valentina Rovetta di quello che è successo finora in queste finali di specialità. Io presa dall'euforia ho anche detto che Sofia Raffaele avrebbe vinto 4 ori, non è stato così ma comunque ha vinto 3 ori e un argento. Davvero dominio tutto italiano, medaglia d'oro anche per la squadra nazionale e adesso ultima finale, quella dell'attrezzo misto che è l'esercizio più insidioso per le squadre. Sì, abbiamo visto ieri nel concorso generale proprio su questo esercizio misto di pallanastri dove le ginnaste hanno avuto più di una difficoltà nel riuscire a gestire i nastri in maniera ottimale, ci siamo visti alcuni nodi, code che si annodavano una con l'altra, quindi sicuramente un attrezzo questo del misto, un esercizio che può riservare sempre delle buone e cattive sorprese. Noi abbiamo detto esercizio misto, spiega tu di che cosa si tratta perché ci sono due attrezzi utilizzati che poi in realtà sono cinque perché le ginnaste sono cinque. Sì, esatto. Nel programma di gare abbiamo nel concorso generale un esercizio che è quello che abbiamo visto nella prima parte delle nostre finali di squadra che è composto da cinque attrezzi uguali, nel caso attuale sono i cinque cerchi, mentre l'altro esercizio noi lo chiamiamo appunto misto perché sono due gli attrezzi che troviamo all'interno della pedana. Cinque ginnaste, cinque attrezzi, in questo caso avremo tre nastri e due palle. Partiamo subito con una nazione, con una squadra molto molto importante perché ci ha già visto prendersi. Guardate la particolarità di questo body, poi capirete perché noi abbiamo già visto l'esercizio, c'è una mago, c'è una sorta di castello, un riferimento. Dicevamo Cina che ci ha già regalato insomma emozioni nella prima parte di queste finali di squadra perché si è portata a casa una medaglia d'argento. Assolutamente meritata, peraltro. Saluto sempre del primo ginnasta. I loro esercizi sempre molto particolari, quindi godiamoci dal punto di vista anche coreografico questa performance. Ecco i tre nastri che sono impugnati da una ginnasta e le due palle da un'altra ginnasta, le altre attendono. Alla notizia Alla notizia Grazie a tutti 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 C'è stato un problema anche durante una difficoltà di equilibrio in cui due ginnaste che erano parecchio vicine hanno rischiato di annodarsi proprio con i nastri quindi anche lì c'è stato un problemino a livello di maneggio. Vedete le riprese qua di cui vi parlavo a due mani degli scambi. La ripresa a due mani della palla ti fa incorrere in una penalità da 0-10 perché naturalmente la palla dovrebbe essere ripresa a una mano. 27-900 il punteggio rispetto alla giornata di qualifica di ieri dove avevano ottenuto un 29-100. Ci sono stati un po' di problemi come dicevo sia di recupero sia di omissioni secondo me dal punto di vista tecnico. E adesso è la squadra del Lucca Reina a entrare in pedana le vediamo scendere per la prima volta in queste finali. non erano riuscite ad accedere alla finale con i cinque cerchi. Una squadra giovanissima completamente rinnovata rispetto ai giochi olimpici di Tokyo. Giovani ginnaste che sono uscite per la prima volta qui a Pesaro. Mostrano i loro esercizi per la prima volta anche a causa di tutte le difficoltà che stanno vivendo in questo particolare periodo storico. la prima volta anche a Pesaro. 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 la foto di Rito. la prima volta anche a Pesaro. 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 Pesaro. Grazie a tutti. 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 Le perdite che hanno avuto hanno anche fatto un po' perdere quella continuità nella storia che voleva essere raccontata dal punto di vista coreografico. Quindi restiamo un po' in attesa di quello che sarà il risponso della giuria. Abbiamo avuto anche difficoltà a leggere la storia di questo esercizio. E tutto ogni tanto è molto importante perché in realtà proprio questo codice nuovo valorizza un po' un discorso, una trama, una storia che deve raccontare l'esercizio. sotto tanti punti di vista. Vediamo il punteggio. Sono terzo punteggio. Intanto sentite dall'audio dei nostri microfoni, il pubblico che si sta scaldando perché stanno per scendere in pedana le nostre farfalle. Già due ori per loro nel concorso generale di ieri e anche nella finale con i cinque cerchi. Io non dico più niente. Mi metto a bacere. Lascio fare tutto te. E lascio presentare queste ragazze. Ma soprattutto due parole su questo esercizio che andremo a vedere. Due. Due. È un'opera d'arte. Però ce lo gusteremo e magari ne parliamo dopo. L'abbiamo comunque già visto ieri nel concorso generale. E vedrete come all'interno dell'esercizio potrete riconoscere, vedere tanti riferimenti agli sport olimpici. Chiara ed esaustiva come sempre la nostra Valentina Rovetta. E allora guardiamo questa opera d'arte su questo bel primo piano di Martina Sant'Andrea. E allora guardiamo questo bel primo piano di Martina Sant'Andrea. E allora guardiamo questo bel primo piano di Martina Sant'Andrea. Grazie a tutti. 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 Vediamo se riusciranno a migliorare il punteggio che tu mi sai dire. dell'Italia, 32,450. E della Bulgaria? Della Bulgaria di ieri, 29,25. Una macchina da guerra, la nostra Valentina. Questa è l'ingresso in pedana, anche questo fa un po' la differenza, no? Come ci si presenta in pedana? Sì, diciamo che anche in questo ogni nazione a volte si distingue proprio nell'entrata in pedana. che... Grazie a tutti. 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 Mora ma di fare eccociate a tutti. anche dei successi degli ultimi giorni. Bene. Saranno due le ginnaste che compongono il team dell'Italia. Tara Dragas e Alice Taglietti che si suddivideranno questa competizione che purtroppo è sarà fatta di soli quattro esercizi. Dico purtroppo perché abbiamo delle fantastiche ginnaste. che sul programma completo sarebbero state molto competitive e lo saranno ovviamente allo stesso modo però è una competizione particolare Le aspettative per questo 2022 che culmineranno con i campionati del mondo di Sofia l'abbiamo ribadito più volte nel corso della nostra telecronaca che saranno prequalificanti per l'Umpia di Parigi che poi alla fine sono dietro l'angolo, mancano due anni Esatto, naturalmente quello è il nostro principale obiettivo è inutile negarlo, per la squadra senior c'è questa grande possibilità di staccare il pass per Parigi e quindi l'obiettivo sarà quello di centrare il podio a Sofia, in Bulgaria e per questo lavoreremo tutta l'estate Un traguardo che tu, voi, avevate già conquistato nel 2018 sempre a Sofia con due anni d'anticipo Insomma, si ripete la storia Esatto, lì a Sofia avevamo una squadra molto giovane con delle punte di diamante che hanno saputo trascinare il gruppo e il lavoro però ci ritroviamo praticamente con quasi le stesse ginnaste e devo dire che sarà una bellissima emozione La gara però è gara, quindi bisogna aspettare, lavorare e cercare poi di arrivare così, serene perché anche in queste competizioni la nostra squadra veramente ha dimostrato una grande serenità propria di chi sa lavorare e ha lavorato tantissimo È anche bello notare questa medaglia d'oro conquistata da Vittorio Noprienco l'abbiamo detto, insomma, ha ginastocrati che non stanno passando un momento tranquillo ed è bello rivederli in pedana qui perché l'Italia è sempre un paese accogliente Abbiamo ribadito e più volte sottolineato il fatto che adesso si alleneranno qui per i prossimi dieci giorni Grazie a una task force, a una rete di aiuti dal comitato organizzatore locale Paola Porfiri Bellissimo Che stanno dando una mano a queste ragazze E comunque sarà un bel, insomma, per loro un aiuto e per noi comunque condividere con delle ginnaste così di livello un periodo importante anzi, ricordo che anche la squadra della Cina partirà con noi come avete detto prima di mattina partiranno con noi verranno ad Esio non potevano venire a fare questa World Cup se poi non le avessimo ospitate fino alla loro partenza per i loro continentali e quindi perché avrebbero dovuto fare la quarantena dopo questa Coppa e non si sarebbero potute allenare e quindi saranno ad Esio con noi organizzeremo probabilmente anche un'esibizione insomma prima di partire per i campionati d'Europa questo è tutto poter condividere è uno scambio non solamente tecnico ma anche culturale tra ginnaste e trasportivi di alto livello ed è bellissimo Intanto queste immagini che ci propone la regia della squadra del Brasile noi ringraziamo Emanuela Maccarani che è anche la nostra direttrice tecnica per essere stata con noi ma se vuole può rimanere con noi ancora per qualche momento perché la gara è intanto in svolgimento volevamo solo lasciarti libera per gustarti le premiazioni ma il Brasile ha fatto benissimo abbiamo infatti abbiamo cresciuto molto questa squadra è diciamo le allenatrici, le preparatrici di questa squadra sono 28 650 hanno un bellissimo bagaglio dal punto di vista tecnico proprio del lavoro di squadra anche con loro abbiamo lavorato insieme qualche anno fa un lavoro che porterà dei risultati a questa nazione e adesso è la volta del Kazakhstan pronta a scendere in pedana e poi manca veramente la squadra del Messico che andrà a concludere questo programma grazie 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 a tutti 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 alcuni picci quindi dal punto di vista del pannello dell'esecuzione non vedrà una nota altissima però io adesso colgo di nuovo l'occasione per passare la parola a Emanuela questa gara si sta concludendo, siamo con un notevole ritardo quindi si sono visti ancora qualche ricorso, qualche momento che è stato dedicato insomma a rivedere gli esercizi però in chiusura ci è stato chiesto di chiudere con un saluto prima delle premiazioni, le farfalle con Alessio Russo faranno un galà proprio per sottolineare quella che è la bellezza, l'armonia, l'eleganza di questo sport di questa ginnastica ritmica che parte da quella che è l'espressione corporea proprio delle ginnaste quindi attraverso la musica in queste performance non di gara imparano a esternare le proprie sensazioni e le proprie emozioni e con questo vorrei così invitare tutti i nostri appassionati a seguire in una sorta di festa bellissima delle nostre ginnaste, ci saranno le individualiste e naturalmente le farfalle ad esio il 25 di giugno con il Butterfly Gala, il Golden Butterfly Gala ritorna il Golden Butterfly Gala esatto, ritorna, l'ultima edizione del 2019 ci sembra lontanissimo dopo questo periodo di pandemia e noi vogliamo festeggiare, io voglio festeggiare queste ginnaste, il risultato storico la squadra del Messico il risultato storico a Kitia Kiuscio del Team Italia una medaglia d'argento individuale di squadra che veramente ha segnato questa presenza questa presenza a livello mondiale della nostra scuola una scuola che è fatta di tanta esperienza perché le ginnaste di Cristina e di Giulietta di Cristina Ghiuro e Giulietta Cantalupi hanno veramente con le farfalle costruito quello che è la nostra scuola italiana ecco, saranno tutte presenti, ci sarà sempre naturalmente qualche sorpresa e questo andrà a chiudere un ciclo olimpico importante che però si chiama Golden e abbiamo già da festeggiare tante altre medaglie che sono arrivate, come una pioggia in questi pochi mesi del 2022 e noi cogliamo l'occasione per dire che il Golden Butterfly Gala andrà in diretta sulla 7.it quindi assolutamente una nuova una nuova mi fa molto piacere sentire questa notizia sulla diretta siamo sempre onorati ma sarà un impegno notevole e poi aspettiamo tutto il pubblico al Palabanco Desio come sempre calorosissima in occasione dei Gala non fa mai mancare il supporto a tutte le ginnasse certo adesso è la squadra del Messico ultima squadra pronta a scendere in pedana in questa ultimissima finale di questa tre giorni di gara Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti. 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 Un divario netto tra primo e secondo posto. Valentina l'abbiamo detto anche in questa circostanza. Quindi non solo stiamo vincendo ma stiamo vincendo con un bel gap. Lasciamo indietro gli altri con punti, non con decimi come eravamo abituati spesso e volentieri in gare precedenti. E intanto la regia guidata da Nello Isola che ringraziamo per aver coordinato tutta questa lunghissima telecronaca della nostra terza giornata di Coppa del Mondo. ci ripropone le immagini delle medaglie dei podi di queste ultime finali in attesa delle premiazioni ecco la medaglia d'oro delle nostre farfalle 32-450 ancora dei momenti dei loro esercizi assolutamente un distacco notevole l'abbiamo detto più e più volte questa squadra stacca le avversarie perché è una squadra di talenti in pedana in alcune parti degli esercizi si mettono anche in risalto delle doti fisiche delle qualità fisiche particolari che hanno delle nostre ginnaste come può essere Martina Centofanti dove appunto proprio solo per uno scopo coreografico magari viene messo un salto di particolare valore tecnico da far ammirare al nostro pubblico bellissimo questo totale sulla Vitrifrigo Arena di Pesaro sempre un palcoscenico in un contesto davvero particolare sempre sempre desiderato da tutte le ginnaste ed ecco la mascotte di questa Coppa del Mondo che fa un po' da priplista di nuovo ai podi vi ricordiamo però e ci teniamo a sottolinearlo che tutti gli esercizi che vi abbiamo raccontato nel corso della nostra telecronaca sono e saranno disponibili sul sito di la7.it per cui chi avesse voglia poi di andarsi a rivedere gli esercizi delle nostre azzurre non solo anche delle altre ginnaste lo può farlo e può anche condividerlo sui social con l'hashtag la7 ritmica importantissimo perché rendere il più visibile possibile il nostro sport è uno dei nostri principali scopi perché è uno sport meraviglioso è molto seguito esatto è molto seguito anche grazie all'impegno di la7 di Feder Ginnastica che nel corso di questa prima parte dell'anno ha voluto rendere visibile tutte le tappe di Coppa del Mondo io quindi ci tengo a ringraziare anche oltre a Valentina Rovetta che è stata qui con me oggi in questa lunghissima maratona e questa telecronaca anche Marta Pagnini che ha raccontato la ritmica Laura Vernizzi anche Giorgia Baldinacci davvero uno staff e un team completo assolutamente mentre la regia è già pronta a inquadrare il podio della finale alle clavette medaglia d'oro lo ricordiamo per la nostra Sofia Raffaelli quella inquadrata in questo momento e Paola Porfino un po' il deuse ex macchina di questa competizione lei che la volle qui nel 2009 ed allora la Coppa del Mondo non ha più lasciato Pesaro siamo in attesa appunto di questa cerimonia di premiazione che incoronerà un nuovo oro al collo della nostra Sofia Raffaelli assolutamente sì è questa medaglia di bronzo Rivediamo sul podio anche la bulgara anche lei davvero per la terza volta oggi anche per lei un altro bronzo in questo caso è la bulgara assolutamente sì per un niente veramente credo che si tratta di un'altra 0-0-5 a dimostrazione di quello che abbiamo raccontato durante tutta la giornata che invece l'Italia vince con degli scarti notevoli non di piccoli decimi presaglieva Eva medaglia d'argento ma sul gradino più alto del podio sale lei eccola ormai credo abbiate scoperto e abbiate imparato il suo nome che lo sentirete a lungo davvero lei è Sofia Raffaelli nuova medaglia d'oro anche in questa finale e con ben 33 punti e 400 quindi più di un punto in più rispetto alla seconda quindi questo veramente segno della sua forza dal punto di vista sportivo veramente in questo momento lei è in cima in cima al mondo bella anche in questa quadratura che riprende gli spalti con tutte le bandiere tantissime persone venute qui alla Vitri Frigo Arena tantissime bambine che si sono appassionate a questo sport uno sport che sta diventando sempre più popolare anche grazie ai successi delle nostre ginnaste sicuramente di questa scuola che ormai da anni ha lasciato il segno sì sono incantata comunque veramente da questo viso pulito di questa ragazza che sembra lì sul podio una bambina che invece in pedana veramente ci dimostra una grinta una maturità una professionalità infinita l'abbiamo detto più volte è stato un periodo per lei molto molto impegnativo perché oltre ad aver disputato per tre giorni una gara così importante come la Coppa la scorsa settimana per tre giorni è stata in gara per laurearsi nuova campionessa settimana non ha mai mollato mai non ha mai mollato 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 della Coppa del mondo eccolo il podio di questa finale di questa finale sul suo gradino appena appena finita la gara iniziava a svuotarsi iniziava a svuotarsi iniziava a svuotarsi sarà la ginnata sarà la ginnata ucraina e la ginnata ucraina la ginnata ucraina e la ginnata ucraina eccolo eccolo il podio eccolo sullo sfondo terza classificata ancora lei nonostante l'età grandissima e Caterina vedeneva dalla Slovenia medaglia di bronzo non molla questa ginnata anche perché devo dire che in questo nuovo quadriennio ma ormai triennio sembra abbia trovato un po' la sua strada assolutamente sì eccola Sofia Raffaelli a tornare sul podio lei comunque contenta sorridente ha fatto incetta di medaglie prima classificata e medaglia d'oro vincitrice della finale con il nastro della coppa del mondo vittoria vince l'oro vittoria onoprienko nella finale con il nastro medaglia d'oro che va all'ucraina al di là della medaglia è veramente un segnale che fa bene al mondo dello sport visibilmente emozionata anche lei sul podio hai fatto tu proprio oggi una domanda su fino a quanti anni una ginnasta può continuare come vedi qui abbiamo una ginnasta di 28 anni che è una ginnasta di 18 e una di 18 e vediamo una ginnasta di 28 anni che comunque ancora sale sul podio quindi non c'è un'età di riferimento bisogna vedere fino a quando il tuo fisico e la tua testa ti permettono di continuare a sostenere un ritmo di vita come questo e finché soprattutto ne hai la voglia la passione e il sentimento di volerlo fare ancora e ancora bandiere ucraine che sventolano all'interno della vitri frigo arena e noi in rigoroso silenzio sentiamo l'ina dell'Ucraina chiamate 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 l'ina dell'Ucraina l'Ucraina grazie a tutti grazie a tutti e Caterina Vedenieva il podio del finale con il nastro we congratulate the podium of the individual final at Ribbon grazie a tutti ebbene Valentina ci avviamo verso l'ultima premiazione di questa edizione 2022 della Coppa del Mondo di Pesaro manca solamente acclamazione della medaglia d'oro delle nostre farfalle e poi possiamo dire missione compiuta mamma mia mamma mia che gara e come ha detto Emanuela questa rimarrà sicuramente nella storia della ginnastica ritmica italiana perché una edizione di Coppa del Mondo così ricca di medaglie non l'avevamo mai avuta ci auguriamo di averla ancora tanto e tanto e tanto ancora però insomma questo è sicuramente uno di quei giorni da ricordare una tappa da ricordare tantissime medaglie e come abbiamo sottolineato più volte abbiamo decretato quanto l'Italia sia forte a 360 gradi dal punto di vista delle individualiste così come dal punto di vista della squadra perciò sicuramente importantissimo a questo risultato assolutamente sì un risultato che fa ben sperare anche in vista dei prossimi appuntamenti che li ricordiamo sono i campionati d'Europa a Tel Aviva a metà del mese di giugno e poi i campionati del mondo di Sofia già prequalificanti per le Olimpiadi di Parigi del 2024 campionati del mondo di Sofia in programma nel mese di settembre una tua sensazione tu che hai allenato queste ragazze per tanti anni vederle qui ancora qui è sempre vincenti ma sembra proprio che abbiano sete di riconfermarsi e di rimettersi sempre in gioco ci stanno prendendo gusto ma soprattutto con una serietà, una maturità e una professionalità incredibile quindi le vedo veramente molto ben proiettate in vista di questo nuovo appuntamento olimpico eccole qui le nostre ginaste sempre lì davanti al gradino più alto premiati dal presidente cavalier Gerardo Tecchi ricordiamo il podio Italia prima con 32,450 la Bulgaria con 29,850 terza posizione per il Brasile con 28,650 davvero un grande risultato per il Brasile è bello vederlo lì sul terzo gradino del podio hanno eseguito effettivamente molto bene le allenatrici sono emozionatissime vediamo che corrono per poter scattare una fotografia assolutamente sì eccole che salgono sul podio sono veramente gli ultimi sono felicissime della nostra telecronaca desidero ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa lunghissima diretta da chi l'ha guidata dal nostro logista Anello Isola tutta la federazione ginnastica d'Italia gli operatori, i fonici, i tecnici la mia compagna di viaggio Valentina Rovetta che è sempre stata puntuale e precisa di fianco a me e davvero tutte le persone che hanno raccontato la ginnastica in questo periodo davvero e che hanno portato spero anche un po' di emozione un po' di divertimento ma anche tanta passione all'interno delle vostre case vi ricordo che potete vedere tutti gli esercizi di questa Coppa del Mondo sul sito di la7.it li sono e se domani avete desiderio potete veramente far vedere anche queste straordinarie medaglie a chi è curioso di conoscere la ginnastica ritmica ed ecco le nostre straordinarie farfalle che risalgono sul gradino più alto del podio in questa telecronica spero di non essermi dimenticata a nessuno se mi fossi dimenticata a qualcuno non ne abbiate male ma veramente è stata una maratona possiamo dirla così di 5 ore lunghissime siamo una grande famiglia noi della ginnastica e sempre uniti in nome di uno spettacolo che spero siamo stati in grado di trasmettervi eccole qua il nostro grande risultato un risultato che veramente coinvolge un numero di persone infinito mi sento anche di ringraziare tutte le giudici internazionali che contribuiscono con il loro lavoro al supporto anche delle ragazze ecco che vengono consegnate le medaglie alle ginnaste ultimi istanti davvero medaglia d'argento e su queste splendide immagini e su questi sorrisi di queste atlete che ricevano la medaglia noi vi ringraziamo per essere stati con noi nel corso di questa telecronaca auguriamo a questi atleti ancora tanti tanti successi grazie a tutti grazie a Valentina Rovetta e un saluto da Ilaria Brugnotti grazie a tutti grazie a tutti signore signori vi invito ad alzarvi per ascoltare l'inno nazionale dell'Italia ladies and gentlemen please send and honor the national anthem of Italy signori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu.